Se il tempo fosse un gambero che a retromarciava, vorrei ritorna subito a 60 anni fa. Per me sei sempre giovane, è come una magia. Ad eleve congratulo, ce n'hai del fantasia. I giorni e gli anni passano, che cebolete fa, ma i bei ricordi restano, ce vengono altro. Mi piacerebbe pure a me, ti piacerebbe pure a te, ci piacerebbe pure a noi, e pure a voi. Adesso ancora non si può, ma forse un giorno si potrà, soltanto il gambero lo sa. Teatro Brancaccio dal 15 dicembre al 15 gennaio, vi aspettiamo. Ciao!